Ah, questo pezzo di carta è ancora buono, eh? Se è buono, e guarda questo spavolo, è ancora utile se non ci fossi io in questa casa che mi occupo di tutto, povero me. Va piano, va piano, bestia, che rompe le uova! Ma le detta la valizia. Ho girato dappertutto per avere le uova a mezzo baiocco l'una. Ah, ma quante ne hai prese? Tre baiocchi. Tre baiocchi? E che diamo lo dobbiamo fare di sei uova? Beh, in tre persone. Un uovo per uno si mangia e non più. No, ma se ne avanzano vanno a male. Eh, possono cadere, e si possono rompere. Da qui, a vedere un po' queste uova. Eccoli qua. Oh, 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 ignorante! Non sai spegnere, sono piccole, non le voglio assolutamente. Ma sono le più grosse che si trovano! Le più grosse, eh? Le più grosse, se hanno la valorta. Guarda, questa è la misura delle uova. Quelle che passano per quest'anello sono piccole, e non le voglio assolutamente. Ma le sento a paro anche la misura delle uova adesso. Questa non passa, questa passa, questa passa, questa passa, questa non passa, e questa non passa. Le passano perché le non passano. Queste le prendo, il resto portano pure indietro. Ma come li trovi i contadini che me li hanno venditi? Pensaci tu, io non le voglio assolutamente. Piuttosto, attenta, come li porterai? Ah, si possono rompere. Mettile nella spotta su. Nella spotta c'è l'insalata. L'insalata? Per quanto ne ha presa? Un bagliotto. Basta mezzo, il resto, portalo indietro. Ma non lavorando indietro! Portala che ti venga la lampia! Come devo fare? Ah, da qui, mettila nel mio fattolino. Aspetta. Ti fiano! Povero me! Oh, povero me! Oh, povero me! Oh, povero me! Oh, povero me! Ridi, eh, ridi, ma stanzona! Ridi delle disgrazie del tuo padrone! Una bella frittata! Guarda un po', se potessi recuperare qualche cosa, è sempre pulito per te. Ecco, per una seconda volta ho pulito. E di queste che le dobbiamo fare? Le porto indietro? Eh, bisognerà tenerle. Per mia disgrazia.